Un altro giorno passato in Cazinca, ci portavo di una band che avevano parlato di livelli e sempre in antagone. Prende il scontro di un associo, l'associo Scolam Festa, che partecipava all'emparare della musica, non i più giovani, un associo assai importante e qui in un anno di ogni posto qui più di 350 scolari ci sono scritti e passavano i gorsi. Bio Gen Rovo Salute! Allora, sono più di 20 anni che hai stato creato le scuole. 20 anni è assolutamente. Sassucio Scolam Festa, ci puoi diventare la storia di Sassucio, della sua creazione, di Filadoggi? Ah, io voglio dire, perché infatti aveva la storia. Io ero dando, già musicanti cantare, sicuramente, in anni 2000, ma io ero bancalaro a Montrabresa e una sera giunti tre giovani di Ubaese a piccare in casa per domandarmi se li puoi imparare a suonare, a guidare e a cantare. Non puoi amicare ricordare, sicuramente. E ho principiato in camera, due mesi, e da 3, è stato subito 6 e poi oggi, e dunque 21 anni dopo, siamo oggi, so oggi, gli elevi, 350, più di più, 350 ui, esattamente. 350 elevi. Come si basa con l'educazione nazionale? So, orari acconchati, passizite di qui, che so aggoledio di Gazzinca? Allora, il ideo di gendammo oggi, esiste e a guinte di aggoledio di Agazzinca, ori Tomasi, si sono gajati 24 anni, e facendo 3 ore e mezzo di musica di Gantt, di Gantt, di Gantt, di Gantt e di o alo classico di noi, in relazione con l'observatorio di Gazzinca, e piano piano, amparremo, per via i oganti, sicuramente, a lingua, di un bagno di lingua proprio, e così di noi, di progressivo, passiamo da o agno a lettura e a scrittura, parlando d'utere, o le grammatiche, d'ortografia, eccetera, eccetera. Anni dopo anni, scuola infestasse più tu in Pondasi come un vero puntetto culturale casinchesi, la struttura impiega 10 persone, e uso successo un pari mancappena e sapacala. Mauro Dionita, un altro associo che conosce, edudino una dinamica tremenda, l'etica vita si parla qui di balò, i due anziani squadri del territorio si sono aduniti nel 2008 da fa nasce una struttura noia, fatta di diado e di verdi, la escazinka, e quindi, già anni dopo, a scommessa pari rischi. Presidente, saluta. Salute. Allora, Fimo, c'è, a due anto, qui numerozi, è montezo che è casinca, dire oramai, il primo club di Gursiga, per ciò che tocca licenziati? Da voi due e tre anni, siamo i primi, con più di 480 licenziati, e abbiamo dovuto squadre regoleciute dei campionati, e sono i miei numerosi. Come ti va a fare il suo cese, sugi e passare il club di Ghasinca, di quanto riguarda un affare, e se davanti a il club di Bastille, da Yaccio, o per quanto riguarda? Eh beh, quando mi va a fare questa vision, è piada a zubi, edo è... La fusion tra l'escuato e il Volili? L'escuato di Volili, ma fura cuore, tutti i bai e di Ghasinca, e siamo arrivati a federare a tutti i bai e di Ghasinca, tutti i bai e di Ghasinca, e siamo riusciti a fare questa visione. La identità di Ghasinca è forte, non è più di oggi, non è più di oggi, non è più di oggi, perché quando tutti i giocatori, sono arrivati a tutti i bai e di Ghasinca, la stagione di Ghasinca, cominciamo giorno a giorno, e dopo vi trasmettiamo tutto il fine del maio. Con un budget di 475 mila euro, il club sviluppato la strutturazione di Scolai e Ballot dedicata ai giorni, sono di 43 educatori ad accompagnati. Tutti i gruppi sono encadrati da due educatori, e c'è vero che c'è questo tecnico che i parenti hanno, l'encadrement, e poi al di ciò, c'è un gros lavoro che è fatto per i dirigenti, per i bambini, per rendere il club conviviale, chaleureuxo, per la buvette, per l'arbre di Noël, la galette dei roi, il grande tournoi che arriverà a Pâques. Quindi, se vuole, il giorno di oggi, per di meno in meno di bambini, e ci sono più di passioni che ci sono riusciti per tutti i due in l'espace di 5 anni. Dalle attività sportive e acquidi culturali adiuentù casi in chiesa tammano tutti i larnesi da spanassi ed apporta alto i valori di oserudio. Grazie!